Buongiorno, io mi chiamo Sibilano Annalisa e oggi voglio mostrarvi l'attività di famiglia, la panetteria SG. Qui produciamo una vasta gamma di prodotti, a partire dalla comune Pagnotta, ciabattine, rosette. Una delle nostre specialità è la ciabattina di evitazione naturale, oltre al pane ovviamente ci sono anche pasticceria secca, dolci, biscotti, focacceria, di tutto di più. Mio padre Sibilano Giovanni ha cominciato a fare il panettiere quando aveva appena 12-13 anni, era un ragazzino, poi ha deciso di mettersi in proprio e così è iniziata questa avventura. Noi siamo cresciuti qua dentro, quindi anziché giocare con la palla si può dire che abbiamo giocato con la farina e di conseguenza è stata una decisione naturale, istintiva, di andare avanti con l'attività di famiglia. Vi aspettiamo nella nostra panetteria per condividere la genuinità e la freschezza dei nostri prodotti. Noi siamo aperti tutti i giorni, comprese le domeniche. Grazie a tutti.